Abbiamo imparato dalle edizioni di Dupré per Bach, con tutto legato, penso che era importante suonare legato su un organo francese dell'Ottocento, perché penso che sull'organo francese dell'Ottocento legato a Bach è molto bello, ma non legato l'organo non vuole. Allora, penso che fare un tocco barocco su un organo romantico, l'organo non parla bene, allora è necessario adattare il tocco allo studente. Ora, la scrittura è barocca, anche se l'Ottocento è romantico. L'importante è produrre in un suono bello, trattare l'organo per quello che lui vuole. Capite tu? Sì. Allora, il pedale è così, sull'organo barocco, perché sono... Invece qui no, quindi penso che c'è bisogno di... Ora, non è solo il legato, l'organo ha bisogno di questo, però l'acustica della chiesa è molto lunga. Allora, suoniamo più staccato o suoniamo più lento. Suonando più staccato abbiamo... Ma l'organo vuole... Ma l'organo vuole... E l'acustica... Allora c'è da trovare una via di mezzo. Che cosa fare? Quindi, su un organo... Sono stato a Alkmaa dei giorni fa... In Orlando, allora è possibile suonare... E non è possibile... Perché la chiesa ha avuto un bel tempo... Molto bene... Soltanto il pedale forse... Non il pedale... Non il pedale... Quindi... Non pensare queste... Funzionano... Perfettamente... Tutto funziona... Allora, se torniamo ad ascoltare... Se... 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 anche se è veloce anche questo è importante il sencipiedi è importante trovare un tocco che fa sentire anche il sencipiedi il sencipiedi è vicino ok allora la registrazione penso che è meglio non molto lungo forse è possibile cambiare tastiera oppure è possibile togliere il registro ma possiamo fare anche con le mani per pensare così poi da qui forse il pedale è ritornare di nuovo su quello che eravamo perché qui è fantastico e non possiamo entrare qui quindi penso che da qui è possibile qui qui facciamo una cosa tu suoni questo con il pedale allora facciamo anche un certo punto tutto va via e lasciamo questo stile fantastico dramma stile fantastico libertà è tutto scritto penso che non è necessario fare una pausa più lunga una pausa più corta perché già guardando la partitura stile fantastico ora cominciare lento non non credo più la pausa questa pausa è importante che da ogni plus fa un patino non più non più di quello che c'è perché questo deve reagire su questo allora io il pubblico deve sentire una pausa può aspettare qui mi sembra che c'è un piccolo errore penso che questo è più bello perché se faccio che si non 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 e poi è difficile qui è così ma qui è bello finire con questo e poi e la pausa come c'è perché la musica reagisce uno, due, tre, quattro uno, due qui la disonanza è importante e che faccio abbiamo diviso un po' la successione